buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video io ed ele siamo appena tornati da 14 giorni di vacanze in grecia siamo andati prima a milos che è praticamente un'isola sulle cicladi 12 giorni là e sono andati benissimo perché avevamo la cucina a ele piace cucinare ci avevamo portati tutto quindi potevamo mangiare bene poi abbiamo fatto gli ultimi due giorni in un resort abbastanza di lusso a santorini a ia e lì non avevamo l'accesso alla cucina e purtroppo i supermercati erano veramente non erano forniti quindi abbiamo mangiato il ristorante abbiamo mangiato un bel po di dolci greci torta e altre cose quindi in questo video voglio vedere come è cambiato il mio fisico in questi 14 giorni e poi vi devo parlare di alcuni cambiamenti molto importanti secondo me per questo canale e sono abbastanza curioso di sapere cosa ne pensate quindi allora allora prima di tutto vi parlo dell'elefante nella stanza non so se si dice così in italiano in inglese si dice elephant in the room in vacanza per quanto ci siamo rilassati per me è stato proprio un periodo in cui ho staccato da tutto ho staccato dal canale ho staccato da instagram se vedete sul telefono che vi dice quanto tempo ci state il mio è tipo sceso del 50 60 per cento che è perfetto mi sono ascoltato degli audiolibri ho fatto un po quello che fanno bill gates warren buffett poi ovviamente assolutamente non sto al loro livello ma sto solo dicendo loro quello che fanno è lavorano tanto quando stanno al lavoro e poi fanno queste vacanze in cui staccano completamente ma la mente continua a lavorare e continua diciamo adesso è forse più creativa da analizzare il momento e a trovare soluzioni che magari prima quando stanno al lavoro non trovavano per me in quest'ultimo periodo è stato un periodo difficile per tutti col covid queste cose qua ma per me soprattutto non riuscivo a fare dei video che mi soddisfacevano e soprattutto adesso è costante con i video quindi in vacanza ho pensato anche a questo ho pensato un pochino a come conciliare le due cose ho avuto una realizzazione molto importante che io devo provare a combinare combaciare insieme i miei video scientifici e i miei blog perché il mio pubblico è diviso soprattutto in queste due diciamo in questi due format quindi io devo trovare un modo per metterli insieme all'interno di uno stesso video ragazzi c'è arrivato finalmente l'ordine di food spring questo l'avevamo fatto prima di partire in grecia però purtroppo è arrivato il giorno in cui partivamo quindi noi speravamo di portarcelo con noi ma non è andata così io mi sono preso fatto restock di queste protein bar gusto cookie dough che è veramente il mio gusto preferito quindi se non avete ancora provate io ve le consiglio ogni barretta c'ha 20 grammi di proteine ormai per me è diventata un'abitudine uno al giorno me la faccio come snack proteico se volete provare usate il codice sconto come sempre muscoli a vita fsg e io vi ringrazio raga io sono già partito però volevo farvi vedere anche ele l'ha provata per la prima volta ha detto che era buonissima la cosa buona è che c'è tipo i pezzi cioè guardate qua che cosa c'è tipo i pezzi di cioccolato non so se si vedono si vedono è come se si vedono allora vediamo se riesco a spiegarvelo prima di partire avevo preso le mie misure e le mie circonferenze e lo faccio perché generalmente traccio non solo le calorie di quanto mangio ma per tracciare i miei progressi oltre a vedere le foto e visivamente in palestra come sono vedo anche e traccio il mio peso ogni mattina così che posso fare una media settimanale e so le fluttuazioni e poi la circonferenza della vita prima di partire in vacanza che secondo me ho raggiunto la migliore condizione che ho mai avuto il mio peso era di 72.5 kg e la mia circonferenza della vita era di 79.4 centimetri mi ero misurato appena sotto all'ombelico adesso quando io sono rientrato mi sono ripesato stamattina body weight e ho visto che ero 72.0 kg flat quindi uno potrebbe dire a ammazza e verso addirittura 0.5 kg in vacanza ma aspettate perché la circonferenza vita questa invece è salita a 80.5 ok centimetri quindi questi sono i dati di prima e questi sono i dati post 14 giorni di vacanza cos'è che potrei fare io con un mio cliente se mi desse questi dati vediamo che il peso è sceso ma non vuol dire per forza di cose che ha perso o bruciato grassi infatti noi dobbiamo anche vedere la circonferenza della vita che nel mio caso è aumentata quasi di un centimetro quando questo succede la circonferenza della vita molto spesso è correlata con un aumento di grasso ok che si va a depositare soprattutto sui fianchi soprattutto per una persona come me quindi qua ho visto che il peso è sceso il peso può essere sceso per numerosi fattori tra cui perso massa muscolare magra può essere perso semplicemente volume muscolare perché mi sono allenato di meno mi sono allenato meno costantemente di conseguenza magari praticamente le riserve di glicogeno nei muscoli si possono essere praticamente perso carboidrati e perso acqua dal muscolo quindi qua il mio peso potrebbe essere sceso per quello ma diciamo che questa è la cosa importante questi sono i dati tra virgolette quelli utili e quelli brutti perché se il peso scende la circonferenza di vita sale molto probabilmente in questi 14 giorni ho perso un po' di massa muscolare magra che mi metto molto facilmente appena riprendo con gli allenamenti e purtroppo ho messo anche su un pochino di grasso ovviamente misure così queste piccole diciamo variazioni potrebbero anche essere dovute solamente a che ne so ho viaggiato ieri quindi il mio corpo ritiene più acqua di conseguenza magari sono più bloated sono più gonfio quindi la circonferenza di vita sale ma io quello che farò nei prossimi giorni per essere sicuro torno a tracciare ok probabilmente seguirò una dieta metto qua dieta non tornerò a calorie drastiche non voglio fare niente di classico ma torno in un lieve deficit calorico sotto il mio mantenimento probabilmente sulle 2300 kcal e poi nei prossimi giorni monitoro il mio peso e la mia circonferenza di vita e vediamo cosa succede idealmente questa scende e il peso dovrebbe più o meno restare là ragazzi io sto aspettando questo pacco da ben un mese e mezzo è il campione il primo campione della performance shirt di kaizen atletica abbiamo fatto il primo lancio che è andato a bomba a ruba oserei dire a giugno quella era la drop shoulder t-shirt e poi è da un bel po' di tempo appunto almeno un mese e mezzo che stiamo sviluppando invece la performance shirt che è quella un pochino più attillata questo è il primo campione vedremo un attimino come sarà io sono super eccitato perché se va tutto bene dovremmo fare il secondo lancio che sarà molto più grande a fine settembre inizio ottobre ma aspetto e vediamo la qualità prima di dare un'ufficialità non so se ve la farò vedere esattamente allora vediamo un pochino quello che c'è questi sono i colori attuali delle magliette andiamo a vedere se sono fatte come pensavo io ovviamente praticamente come funziona ci stanno i color palettes e tu devi scegliere i colori da quelli del tessuto e poi ovviamente magari dal vivo noti che sono più chiari o più scuri di come li volevi questa è perfettamente quello che volevo io logo Kaizen qua icon logo Kaizen brandizzato Kaizen proviamola va mi riesci a vedere quanto sono emozionato un bimbo alle ciostre ragazzi ve la mostro perché per me questa è perfetta è una taglia L volevo provare questi colorini un pochino diversi stretta sulle maniche come vedete per lasciarvi un bel bicio di fuori che è quello che mi avete chiesto c'è gusto per la performance però con una piccola differenza che a me non piacciono più quelle che ti stanno veramente un sacco aderenti al corpo mi piace più quelle dove riesci diciamo sono un po' più larghe dove puoi respirare però ti stanno benissimo strette sul petto e sulle braccia c'è questa è perfetta perfetta c'è qua ti sta stretta sul petto un pochino ti sta stretta ma qua assolutamente puoi respirare altra cosa fondamentale è il tessuto guardate qua c'è questa sì che è la performance poi ci sta va bene lo scooped hand e tutto il resto beh questa è pazzesca la toccare è morbidissima non lo so c'ho azzeccato com'è il logo? bello è bello è bello ci sta mi devo dire un piccolo segretino che questo logo in realtà era un'idea di ELE poi l'esecuzione l'ho fatta io però l'idea era di ELE ringraziamo ELE amore è pazzesca stupenda e poi mette proprio i tuoi occhi sì dai quindi tutti i boys blue eyes mi sarà una bomba ragazzi mi sa che ci sarà il lancio a fine settembre ottobre se riusciamo a produrle vogliamo un'altra? sì però mi devo vedere a specchio loro l'altro non lo vedono andranno un'altra volta sorry guys for the spoiler ragazzi è giunta l'ora di mettere a dura prova la maglietta io sono appena arrivato fuori dalla palestra questa è la stessa palestra in cui andavo tipo tre anni fa addirittura però al tempo si chiamava duet fit adesso è stata comprata e si chiama Viva Gym comunque vi volevo dare un consiglio io ad esempio adesso sono venuto a piedi da casa e mi stavo ascoltando un podcast di JRE che ho già parlato sul canale è di Joe Rogan secondo me i podcast sono un ottimo modo magari che ne so quando ho fatto delle cose che non richiede non lo so dei pensieri attivi state che ne so pulendo casa state camminando mi stavo ascoltando quello con Ross Edgley che è un atleta di Gymshore che ha fatto tipo nuota e ha fatto il giro dell'Inghilterra veramente un atleta assurdo io ve lo straconsiglio e dico anche che ho iniziato il mio podcast che è il Kaizen Podcast ho messo il primo episodio qua sul canale ma diciamo che l'ho anche messo su Spotify quindi se voi andate su Spotify se usate Spotify mi farebbe un sacco piacere se controllate il podcast che si chiama Kaizen Podcast per ora c'è solo un episodio ma vedrete che proverò il più possibile a metterne uno a settimana con degli ospiti abbastanza interessanti spero allora siamo appena arrivati in palestra oggi non vi mostro tutto un allenamento perché sto facendo delle giornate di testing quindi più in avanti ve ne parlo meglio sto praticamente impostando il nuovo mesociclo sto testando una nuova cosa scientifica e quindi prima lo testo poi se funziona bene sono sicuro che funziona bene ma poi voglio essere sicuro con me stesso che funziona bene e poi vi parlo esattamente di come potete farlo anche voi se volete impostare al meglio un mesociclo quindi vi mostro qualche esercizio però oggi non sarà niente di che solamente test testi massimali su alcuni esercizi per poter poi calcolare il peso da utilizzare nei prossimi microcicli let's go che bec Che dire raga, io direi che sta maglia passa tutti i test di palestra allenamento e che so io, che bomba raga, no, cioè, con l'icona qua non, sono così emozionato, non riesco manco, non so se si capisce, sogno che sia vera raga, una maglia mia fatta bene, performance, felastene e cotone, guardate che bomba va, yes! Ragazzi sono fuori dalla palestra, abbiamo appena finito l'allenamento, allenamento si fa per dire oggi alla fine non era per niente pesante, era solo una giornata di test dei massimali, quindi niente, bam, proprio zero, diciamo che non sono le sedute più divertenti ma penso che sia importante una volta ogni tanto, soprattutto per una programmazione, se vogliamo costruire un mesociclo nuovo con esercizi nuovi, testare il proprio 1RM, il proprio massimale e infatti ho fatto il massimale su questi esercizi. In alcuni esercizi ho notato negli ultimi due giorni che ho perso forza rispetto a 14 giorni fa, che è normale, questi sono soprattutto quelli composti tipo panca piana, tipo lo squat, che alla fine c'è anche un elemento di abilità in questi movimenti, quindi se non pratichi per, sai, due settimane un pochino perdi, ma è solo, secondo me, neuromuscolare e pratica, quindi io penso e sono sicuro che nelle prossime 1-2 settimane recupero tutti i livelli di forza su questi movimenti principali e spero fra 3-4 settimane, di stare oltre a dove stavo, diciamo, prima dello stop. Detto questo, io sto aspettando Ele, dovrebbe star venendo a piedi qua fuori da palestra, ci dovrebbe mettere tipo 5 minuti e niente. Ci facciamo una passeggiata per Barcellona che è abbastanza mezza vuota, devo solo stare attento alla polizia che se mi becca senza mascherina mi fa la multa, ma per filmare con la mascherina, detto meglio di no. Ci vediamo dopo. E vi faccio vedere la cena, molto molto easy, non dico buona, ma sicuramente macro friendly, come vi ho detto, sto riprendendo la dieta dopo la vacanza, quindi preferisco essere abbastanza pulito. 180 grammi di tonno in scatola, ci aggiungo un po' di questa passata che è una bomba unica, questa è la Solis, tomate frito se siete in Spagna. È veramente una bomba, penso che per 100 ml è tipo 70 calorie, ma è completamente worth it, al 100% ne vale la pena. Poi, micro, stanno con Ele, lei si fa le super mega bowls e mi ha un attimino diciamo indottrinato le verdure e quindi andrò a mischiare tutto qua dentro. Diciamo che a me non è che fanno in pazzia le verdure, lo sapete se mi seguite, ma se ce le metto con la passata diciamo che va tutto bene. Here we go, ecco il piatto pronto. Niente di speciale ragazzi, ma almeno funziona diciamo abbastanza dai. Mi metto a mangiare e concludiamo questo video che è già super lungo, se stai ancora guardando. Non posso che ringraziarti. È la mattina seguente, io mi sto facendo il mio, il mio, la mia acqua e limone. Purtroppo ieri sera mi sono dimenticato di chiudere il video, volevo mettere insieme un video del mio fisico prima, di partire. Quindi del mio fisico, penso che ce l'ho solamente di quando mi allenavo, però volevo farvi vedere quello. E il fisico che ho appena fatto stamattina, un video a parte l'abbronzatura come vedete che sicuramente aiuta il fisico. Quindi senza l'abbronzatura sarei peggio di come sono. Io penso che visivamente ho perso massa muscolare, lo noto soprattutto sulle spalle, che infatti non ce l'ho fatta allenare le spalle in modo efficace in vacanza. Anche la schiena, perché anche quella non ce l'ho fatta allenarla in vacanza. Detto questo, questo è il video di oggi, vorrei veramente sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensate anche del format, io penso che sia uno dei video, pochi video che sono veramente felice di come è uscito fuori. E vorrei dare questo tipo di impronta ai prossimi video, quindi mettendo sempre la parte tipo informativa verso minuto 3 o 4. Però all'interno di un vlog, così che chi vuole vedersi tutto il vlog si può vedere tutto il vlog. Mi farebbe un sacco piacere se me lo fai sapere nei commenti cosa pensi. Se puoi, lascia un like a questo video, che tu ci metti un secondo se ti è piaciuto, se ti è stato utile e a me aiuta un sacco a continuare a crescere il canale, che mi fa sempre piacere. Alla fine lo faccio anche per vedere una progressione in quello. E niente, questo è tutto. Come sempre, se vi serve programmi personalizzati o coaching online, andate su muscolavita.com. Noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie, raga. Grazie.